Promuovere la dimensione culturale e spirituale dei territori di montagna della Valle Susa in Italia, dell'Alta Valle della Durance in Francia, attraverso la valorizzazione di un asse storico che collega due grandi destinazioni turistiche e culturali, Arles e Torino. E' questo l'obiettivo del progetto europeo Via Alta finanziato nell'ambito di Alcotra, capofila del progetto che si concluderà a fine 2014, è stata la provincia di Torino in partenariato con il comitato del turismo del dipartimento delle Otalpe e con il comitato del turismo della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'investimento con il progetto europeo ci ha permesso di fare molto lavoro promozionale che dovrà continuare in qualche modo con altre risorse nel futuro perché la promozione di questi itinerari ha bisogno di molti anni di lavoro. Numerose in questo ambito le iniziative promozionali, ad esempio la realizzazione di cartine turistiche in italiano, francese e inglese disponibili nei punti di accoglienza dell'azienda turistica locale Turismo Torino e Provincia, un filmato realizzato dal centro audiovisivi della provincia e un educational che ha coinvolto alcuni giornalisti di testate nazionali, di blog e siti dedicati al turismo. Da oggi siamo qui con dei blogger alla scoperta della Via Francigena, quindi i loro interessi sono soprattutto di tipo naturalistici, storico-culturali perché noi come ATL proponiamo la Via Francigena come un itinerario interessante per tutti, dagli escursionisti alle famiglie e come un motivo per ripercorrere attraverso attrattive culturali come quella dove siamo oggi, la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, di scoprire un territorio che nei secoli ha fatto la storia. Le tradizioni enogastronomiche quanto possono raccontare di un territorio? Secondo me tanto, anche perché il mio blog l'ho costruito intorno a questo argomento forte secondo me, quindi secondo me sono uno degli input, una delle cose che attira molto il turismo. Quello che noi facciamo regolamente è cercare di raccontare un territorio, le possibilità che questo territorio offre. Il lavoro ovviamente è minuzioso perché abbiamo una grossissima responsabilità nei confronti dei nostri elettori di poter consigliare le eccellenze che ci sono e le tante meraviglie che nel nostro paese, ma non soltanto, esistono.